Samy! Dove siamo? Siamo a Gratazzolino! Grazie, due giorni che è ferma qui! Aspettate! Al Motoclub! Stiamo cercando di mangiare una torta fatta dalla Samy, buonissima, perché è il compleanno di... Nico, di chi è il compleanno? Del babbo! E di? Ale! Guarda la Samy, si baraglia anche sulle forme, guarda! Mezza forma, ha comprato mezza forma! Se ne vogliono cinque di cadere, quattro brutti! Sì, disperi, disperi! Ma te ne hai messe, Ale? Tre, sette, va bene! Va bene, dai! Uno, due, tre... Se fa l'accentino! Ragazzi, domani mattina all'inizio del nostro CTP siamo ancora qua, eh? Sette! Sette! No, no! Dai! Amori! Mi accendo! Uuuuh! Dai, non le accendiamo! Fanno gli stupidotti! E che fai? Non c'è idea! Vai a soffiare anche te, dai! Non soffiate, ragazzi! Guarda che faccia! Ti ammazzo, eh! E' buona che mi sposti qui due capelli! Allora, guarda un bocco! Giureghi la bocca, Nico! Pronti? Attenti! Cancavuri! Bravo, Nico! Vai, vai, canta, canta! Vai, vai, canta! Cancavuri a te... Come a te? A voi! Come a te? Bravo, Nico! Grazie! Cancavuri a mio pap... E anche a Fabio! E a Fabio! Non c'è niente! A voi! Aspetta, aspetta! Cancavuri a Fabio! Oh! Dai, spegniamo! ... al paddock con i tecnici. Qui il nostro tecnico, Marcione, ci ha chiamato tutti all'appello. 9.40 per il briefing. Siamo a Grotta Zolina... Per un Ctp con la Federazione Marche. Questi sono tutti i bimbi del 65. 85, 125 e altri che ne stanno arrivando. Ragazzi, ma chi c'è qui? Sì! Allora, se andate a Riccione ci venete a trovare due cose. Uno, la piada più buona di Riccione è la piada di Chino. E due, se volete un servizio fotografico, questo è l'uomo per voi. Casa Alboni! Allora, entriamo più nel vivo di questo corso. Lì tutti i genitori a guardare i loro figli che stanno facendo un mandetto dei lavori pazzeschi. Sono tantissimi e la Federazione deve essere molto orgogliosa di questi ragazzi. Ancaldate, quanti sono? Certissimo! Ah, sì, partia. Borgognoni e poi tutti quanti. Grazie a tutti Eccoli lì in pausa Mamma mia sono tantissimi 65 Eccoli lì in pausa Eccoli lì in pausa Eccoli lì in pausa Eccoli lì in pausa In questo momento gli sta dicendo che le curve sono importantissime Perché le gare alla fine si vincono in curva e non sul rettilineo Ti puoi trovare in quella posizione se arrivi troppo piano sotto la rampa Tu dovresti fare la curva un po' più veloce e ad avere più velocità Nel momento che hai più velocità tu arrivi lì, chiudi il gas, la moto in automatico va da sola in avanti Eccoli lì in pausa Sono ripartiti tutti Quindi qui ci sono gli 85 e 125 Una marea anche loro Abbiamo fatto il cambio pizza, la pizza è stata divisa in due settori Una adesso fatta in versione Eccolo lì in più 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anche te ti stai conterando? È freschetto. Avete delle fazze rosse però. Oh, stanno andando da Dio comunque. Arriva, vado via. Ma qui... no, si è spenta. Non l'ho fatta in tempo. 28 anni. Peppa è Peppa. Allora, gli 85 e 125 si stanno preparando per la loro manche. Ecco che si accendono i loro motori. Allora, è un CTP. È una manche d'allenamento, ma la tensione comunque è uguale. Allora, si sono accesi i motori. Con i 10 secondi... 5 secondi... Allora, si è un CTP. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao Aspetta, fammi dove siamo?